La mente del medico. No, è l'analisi completa del tessuto che ci emette tanto. Capisco. La mente del medico che aveva eseguito la coloscopia mi spiegava rapidamente la procedura. Dopo il prelievo, il frammento del fungo trovato nel mio intestino era andato al laboratorio di patologia, che avrebbe dato il giudizio definitivo. A volte il frammento denunciava un tumore che si presentava benigno e allora il medico avrebbe estratto il fungo in coloscopia. Se il tumore invece era maligno, doveva essere operato in chirurgia generale perché il fungo doveva essere estirpato alla radice. Se ciò avveniva io sarei stato riportato in camera operatoria per l'indispensabile intervento. Naturalmente era importante che il secondo referto fosse presentato senza ritardi. Per me era come vivere dei momenti di vita di altre persone senza esserne coinvolto. Sapevo che quei momenti appartenevano ad un film in cui ero inserito da protagonista, ma io non ero interessato. Eppure si trattava del mio corpo fisico. A mano a mano che la mia vita progrediva io diventavo più spirituale. Le componenti animali della mia vita si dissolvevano nei miei ricordi e cominciavo a dubitare che fossero mai esistite. A volte giungevo a negarle completamente. Solo durante le riunioni del cerchio e seno intuivo perché le avevo prima create e poi percepite. Ed ecco la verità di me stesso, la verità della mia coscienza, che si costituiva poco a poco e che la scienza, il regno della mente, spesso bandiva e relegava nel regno della superstizione e del nulla. «So quanto hanno da fare in patologia», diceva il medico che aveva eseguito la coloscopia. «E per un ritardo non avrei nulla da obiettare, ma questi ritardi succedono di continuo». Disteso sul lettino ed in attesa io meditavo oltre la triste materia fisica. «La settimana scorsa ho avuto qui una paziente, tumore al petto», diceva il medico. «Ho asportato il tumore e il laboratorio l'ha diagnosticato benigno. In seguito sul referto biologico l'ha diagnosticato maligno». Scrollò le spalle. «Non voglio farne una questione, non è facile decidere in tutti i casi di primo acchito, ma non è facile richiamare una donna e dirle che ci si è sbagliati, che dopo tutto ha un cancro e che bisogna operare di nuovo». «Dottore, lei ama il suo lavoro?» chiesi. «Sì, perché?» disse il medico, quasi infastidito dalla domanda personale. «E allora perché non lo accetta con tutti i suoi aspetti negativi?» «Perché gli aspetti negativi fanno parte del mio lavoro», rispose il medico. «Fanno parte del suo lavoro valutato dalla mente, non dalla coscienza, che lo accoglierebbe senza le riserve della vita terrena per quello che è, e cioè come un pacchetto evolutivo», dissi. «O meglio, più umilmente, gli proposi».